E' la buona notizia di oggi, hanno riaperto i battenti sei anni dopo, i battenti di industria italiana autobus, la fabbrica riapre, vengono mostrati nuovi prototipi che saranno realizzati in Valle Ufita, si chiamerà Flumeri, questo nuovo autobus urbano che avrà uno spazio particolare dedicato ai diversamente abili, nuove tecnologie per aggredire il mercato. La buona notizia annunciata dal Del Rosso, ancora il ritorno al lavoro di 120 operai nel mese di giugno. Intanto abbiamo visto un milione di metri quadri di terreno e capannoni, grandi come almeno 5 campi di calcio che si rianimano seppur con 16 operai per il momento, 16 saldatori, ma vogliamo credere che il futuro sia roseo. Anche perché, avevamo detto, ci sono di mezzo le primarie del PD, ricorderete, era andato deserto l'ultimo tavolo a Roma, ora le primarie del PD sono passate, il 9 maggio si torna a Roma, Invitalia dovrà dare altri 3,3 milioni ad industria italiana autobus e quali sono i dubbi? Allora vi chiederete in tutto questo. Del Rosso dice che 120 torneranno al lavoro a giugno, ma poi fa appello alla sensibilità del governo per dare nuove commesse. Ora, che cosa andranno a fare i 120 a giugno se non ci sono commesse? Entreranno veramente? Questo è il primo dubbio. Poi l'appello alla sensibilità del governo, mentre pare che l'industria italiana stia producendo nuovi pezzi di autobus non in Italia, né a Bologna né ad Avellino, ma addirittura in Turchia e in Polonia. Insomma, bisogna vedere se davvero arriveranno gli altri fondi, ma l'iniziativa privata deve essere forte, senza aspettare nuovi aiuti da parte del governo. Altrimenti, in Valle Ufita, più che la nuova industria italiana autobus, andrà in scena quel film, il cui titolo recitava, quel tram chiamato desiderio. E speriamo che così non sia. E questo è il punto. Grazie. Grazie.